Un dipinto Venerdì 17 aprile, San Roberto è il centottesimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 258 al termine il sole sorge alle 6 e 21 e tramonta alle 19 e 59 la luna si leva alle 4 e 32 e tramonta alle 14 e 18 terremoto a Venezia con gravi danni agli edifici tra i più colpiti è la chiesa di Santa Maria Formosa dove, riferisce un cronista, tre volte crollò il terreno e s'aprì il soffitto che appena fuggita la gente cadde e rovinò marmi e sepolcri le previsioni per domani da sereno o poco nuvoloso a tratti parzialmente nuvoloso per transito di nubi medio-alte e formazioni di cumuli sui rilievi nel corso del pomeriggio in pianura, nelle ore più fredde non si escludono locali riduzioni della visibilità specie dalla tarda serata e sui settori orientali